cari amici dell'ippodromo di cesena abbiamo il privilegio di comunicarvi che dal 3 all'11 settembre nella spettacolare cornice di piazza del popolo a cesena si terrà la storica giostra all'incontro disputata da valorosi cavalieri in armatura da battaglia sabato 10 dopo un coloratissimo corteo storico i cavalieri saranno presentati alla città domenica 11 in piazza del popolo vestita a festa si terrà la famosa giostra all'incontro la regina di tutte le giostre che vedrà i cavalieri sfidarsi lancia in resta scendi in piazza e vivi con noi questa storia meravigliosa grazie a tutti